Natale in vitrina, spendi in città, acquista, scatta e vinci. A Nocera Inferiore, il Natale è più Natale, con le iniziative dell'amministrazione comunale. Promuove il commercio locale e l'assessorato alle politiche dello sviluppo economico. Natale in vitrina è per tutte le attività commerciali presenti sul territorio, basta registrarsi sull'app. In palio 4 premi in denaro, destinate alle vetrine cui andrà il podio su indicazione di una giuria tecnica. Facendo acquisti anche solo per un ammontare di 10 euro invece e utilizzando la fantasia per uno scatto che faccia vedere bene il negozio dove l'acquisto è stato effettuato, si conquesteranno ricchi premi. Insomma, a Nocera Inferiore, il Natale è più Natale, con le iniziative dell'assessorato alle politiche dello sviluppo economico. Inferiore, il Natale è più Natale.